HULICAN ZOMBIE APOCALYPSE Ciao ragazze, ciao a tutti e a tutti Nuovo video, chiacchiere barra vlog Come state? Spero bene, allora Dunque, questo è un video per prendere un po' con voi Ma anche perché ci tenevo molto a fare questo video Come sempre io ci tengo E niente Ho messo il telefono un po' in modalità Che non si capisce bene come sia Perché ho paura che mi caldi da un momento all'altro Ho messo un po' in bilico Sulla scrivania, quindi aiuto E niente Intanto il mio bel microfonino Perché così almeno si sente tutto bene E non vi dovete Non vi dovete affaticare a sentirmi Tutta strana Tutta strana Che non si capisce cosa sto dicendo Allora, come primo Dico Prodotto, goteggiato Stamani per uscire a parte questo outfit Ve lo faccio vedere Dopo il mio trucco Allora, il trucco è questo Un po' malandato adesso Perché ce l'ho su da parecchi ore Vedete, aspettate Adesso si è un po' fatto a benedire Andata a benedire perché Nel senso che Si è andata un po' a farsi friggere Perché Il dentista ha suonato al dentista Ha fatto cose Viceversa Quindi Ciao Ne proprio Che alla fine Non sono riuscita A tenerlo più di tanto In piedi Vabbè Niente Si è suonata al dentista Comunque Questa palette Qui Ho utilizzato Questa palette Che è molto buona Ed è di Pink Panda E nulla Si è tutto a posto Ragazzi Tranquille Ho solo un po' di Signozzo Non so Comunque Niente Vedete Non ho fatto neanche la pennichella Quindi Va bene No comment Allora Cominciamo con le spadiglie Andiamo bene Comunque Questa è la matita di Essence Per cosa Per le sopracciglia Io ho utilizzato Questo pettinino qua Ops Aiuto Questo pettinino qua Per Uniformare E pettinare Per le sopracciglie E E di Facile vedere La matitina Insieme a Questa Questa qua Che È Il Che cos'è È E Brown Designer Per disegnare Per disegnare appunto La sopracciglia E il Makeup Makeup Aiuto Makeup 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 Brown Non lo so più dire Aiuto E brush Essence Questo qua E poi Cos'altro c'è Ah si Ho utilizzato Sto matito Della W7 Molto buona Fantastica Fenomenale E E poi Ho utilizzato Aiuto Cosa dire Altro Che ho utilizzato Sto perdendo Ah si La palette Questa palette qua Questa palette È fantastica La adoro Ho utilizzato Sempre questi Ombrettini Qui Questi Tranne questi Qua Chiari Solo questi Tutti scuri Ho utilizzato E niente L'ho picchiettati Tutti attorno A Spalme Per la fissa Mobile Pieghe dell'occhio Che tanta piega Non c'è Ma Questi sono Dettagli Come dico Sempre io E Cosa mi è accaduto No vabbè Cos'è Una maledizione La mia No Scusate ma ogni tanto Qualche cosa qua Va storto Va bene Lasciamo stare Va Va bene Ho capito Ho capito Va bene No perché Prima ho appiccicato Voi dovete sapere Che ho attaccato Uno di questi Di padre Pio Ma Evidentemente Quella carogna Mi ha appiccicato Perché Non vorrei dire Bestialità Ma se qualcosa Ma se qualcosa qua è successo Perché dovete sapere Che è appiccicato Questa Quassù Qua E Va bene Comment Lasciamo stare Che meglio Che meglio Basta le ciance Basta le ciance Ciance Le bande Sì Allora Vi stavo dicendo Cosa Che ho mischiato I due I due ombretti I due ombretti Nella parte superiore E inferiore dell'occhio Cioè Sulla palpebra mobile Fissa Scusate Sto guardando Un commento Vabbè Che mi è arrivato Su facebook Poi Questa matita Della TAPRIUN7 Che ho messo Prima di questa Di applicare Questi ombretti Di questa palette Questa matita qua Della TAPRIUN7 Non so neanche io Come la sto mettendo Spero che la sto mettendo bene TAPRIUN7 Vabbè Come è Non lo so E poi Infine Ho messo Un po' di mascara Dove è il mascara Eccolo qua Mascara della Rimmel Volume Non lo so Volume estremo Non so neanche come dire Però Questo è Dettagli E poi 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 Questi due ombretti L'ho utilizzato Ombretti Sì Ciao Questi pennelli L'ho utilizzato Per Mettere Sia Questi due ombretti Scusate Se oggi Sembro assente Mentre vi parlo Ma Questa cosa qui Della croce Che mi cade Giù Non mi sembra Tanto normale La cosa C'è qualcosa Che non mi torna Ma vabbè Dettagli Quella vedete Questa di Padre Pio Che vi ho appena fatto vedere Sì È appena caduta giù Non ne capisco il motivo Non me ne capisco il motivo Ma vabbè Proseguiamo Che miglia Questi due Sono Due ombretti Sì Ce la faccio Oggi Non lo so Due pennelli Aiuto Due pennelli Che ho utilizzato Per applicare Gli ombretti Ok Ce la posso fare Allora Mentre questi Questo qua Il correttore Il correttore E che correttore Bellissimo Adoro Mi piace Perché mi copre Tutte le occhiaiette Insieme alla mia Amata Beauty Blender Della W7 Questa è della L'Oreal È fantastica Quindi Che dire Questo correttore A chi piace Mi fa piacere Perché è veramente Un buon correttore Ma c'è chi non piace A chi non può piacere A me sinceramente Questo correttore Mi piace da matti Quindi top Fenomenale È un 327 cash Scusate Ma stavo leggendo 327 cash Vedete Vedete Sì Poi Buono cacao Avevo detto Che lo mettevo E non l'ho messo Ma non importa E niente Adesso vi faccio Mettere il mio outfit Sempre se Riesco a capire Come pennello Per applicare il blush Ho utilizzato questo Come blush Ho messo questo Della Maxi Maxi blush Della Rimmel Ve lo faccio vedere bene Insieme a questo pennellozzo Della Pink Panda Pink Panda E poi 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 Vabbè La bello La Blossant Della Outfit Sì lo so Non ci fate caso Lì c'è La mia borsa Con dentro Perché stamattina Ne ho messo un'altra Che dentro L'armadio Ma poi l'ho tolta E appunto Cambiate E ho utilizzato Questa borsa Qui Questa Di questa Non so che marca Sia Però mi è piaciuta Tanto E la sto Rutilizzando Questo è il mio Sì non fate caso Alle pantoffole Perché stamattina Avevo questi vali Questi qua Vedete Questi Che non sto rimettere Per fare il video Perché Non mi interessa Preferisco stare comoda Quando sono in casa Comunque Questo è il mio Come dire Il mio outfit Vedete Già E nulla Bene ragazzi Torniamo alla base Oppure non lo so Aspettate un attimo Che voglio aprire Un attimo La mia finestra E vedere un po' Un attimo solo Eccoci qua Allora ragazzi mie Ragazzuole mie Ops Stavo toccando Il microfono Non sia mai Va bene E dunque Un attimo solo Allora Vi dicevo Ho aperto la finestra Per fare un po' Più di luce Perché così Non si capisce Una mazza E nulla Questa è una pantalona E tuta Non so se si capisce bene Cosa cavolo è Una pantalona E tuta Velo morbidoso Morbido Più di tanto Non è Ma Mi dà Il mio giusto Comfort Per Camminare Fuori casa Cercare di Andare Alle mie commissioni Dentista Che non sia Dentista O che sia Altro Tipo Quando fare le mie Sobrette commissioni Non dico Proprio commissioni Più che altro Passeggiate Cose varie L'aria aperta Quando si fa Un freddo bestia Proprio Un freddo boia Anzi Meglio dire Perché bestia è brutta La dire Freddo boia Insomma Comunque Ci siamo capiti Preferisco Avere Un Un Abbigliamento Che Mi dà Più Comforto Ma anche Più Che dire Più caldo Più calduccio Dai Perché si Sono freddolosa Non so se Si è capito Ma sono Molto Freddolosa Si E niente Allora Che posso dirvi Ancora Nulla Cos'è sta roba Che vedete qua Niente Ok Allora Qua vi ho fatto Il letto Stamani Non l'avete visto Ma Se riesco A mettere La clip Altrimenti Nisba Nata De Nata Perché Non mi voglio Fare gli stessi Video Perché ho capito Che i miei Video sono Tutti uguali Pazienza Non ci posso Fare niente Ah Aspettate Questo Era Il mio La mia Postazione Trucco Non so Cosa Possiate Vedere Stavo Cadendo Aiuto Non so Se l'avete Visto Questa La mia Postazione Trucco Dove Voi Eravate Posizionate Dove Voi Eravate Sistemate Quando Stavo Registrando All'inizio Del Niente Allora E rieccomi Alla base Alla base Della Postazione Trucco Barra Computer Makeup Si trucco Ho detto La stessa Cosa Però Quello E ci siamo Capiti Allora Questo Vabbè Qua dietro Non si vede Ma C'è la postazione Dell'armadio Vicino C'è l'armadio E affiancato C'è il computer Con Tutti I miei Trucchi Profumi E via Discorrendo E Che dire Avete visto Di tutto E di più Il mio Trucco L'avete visto Avete visto Anche Che ho portato Una borsa Non bella Di più Bellissima Con Il ciondolo Del cuoricino Perché c'è anche Un cuoricino Attaccato Alla borsa Non so Se l'avete visto Di là E E niente Quindi Non lo so Ragazze Se voi Questo video Vi piace Appunto Vi Vi dico Già di mettere Un bel like Di supporto E E Basta Commentare Se vi Interessa Commentare E Attivare La campanella Iscrivervi E perché no Attivate tutte le notifiche Per seguirmi su TikTok Anche Oltre a YouTube Instagram E' vero Su Instagram Non ci sto più di tanto Cioè ci sto Solo per seguire Ma tante volte Anche i contenuti Preferisco Condividere Quello che faccio Qua su YouTube Che dovrei Anche lì Mettere Quella cosa Se no che senso Ha Questo su Instagram Non lo so Non ne ho La più palida Idea Già Ah Non so se ve l'ho Detto all'inizio O Doveri dire Fin adesso Ma ho messo Sto microfono Non solo perché Si capiscono bene Le parole che io Devo scandire E che scandirò Come sto facendo In questo istante Ma soprattutto Perché Oltre che devono essere Chiedere le parole Di quello che dico Che Si senta bene Quello che dico Ma In primis Come posso dire Miglio Anche che la voce C'era un po' bassa Ma la dovrei alzare di più Per non farmi Per non scolarmi di più Preferisco avere Il mio Benedetto Microfono Perché Senza microfono Non c'è Non è un video Non è un video Ragazzi C'è il video C'è ma Se non c'è un microfono Una valiera Come lo Si voglia Chiamare Chiamare Questo qua È un microfono Che è molto buono Molto funzionante Si così E niente E niente ragazzi Adesso ci salutiamo E ci vediamo In un prossimo video Ciao 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 Tuc C'èwrite